Strada provinciale 13, tra Pieve di Cento e Galliera, dove il terremoto ha causato la liquefazione del terreno. Perché si verifica la liquefazione sono necessarie una serie di componenti che sono praticamente il fatto che nei primi 15 metri di terreno ci sia dei livelli di sabbia di almeno 50-60 cm, che siano completamente saturi d'acqua e bisogna che ci sia una scossa di terremoto di magnitudo superiore a 5,5. Quando avviene la scossa tellurica in sostanza avviene un addensamento delle sabbie e questo addensamento porta a un aumento della pressione dell'acqua, la quale deve trovare una via di sfogo. La via di sfogo può venire in senso orizzontale e in senso verticale, quindi se trova una crepa oppure se la può creare la crepa, l'acqua esce in pressione, si tira dietro anche la sabbia. Le testimonianze, ad esempio, qui da noi hanno detto che hanno visto anche dei giatti d'acqua alti due metri fuori dal terreno. Il fienile del signor Rino Govoni è stato distrutto dalle scosse. La casa è rimasta in piedi ma il terreno tutto intorno si è affossato. Il pozzo si è spaccato, riempito di acqua e sabbia. Si vede, si vede l'acqua, però in realtà poi subito sotto c'è la sabbia, che era poi praticamente l'altro sabbia, quando si è venuto era qua. Questa è la merda? Sì. Pappa, c'è la sabbia, pappa, c'è la sabbia. Non lo vede, non lo vede. Non lo vede, comunque, vedate anche l'organizzazione. Il figlio che fa così un po', mi diceva che prima confliva tutta l'acqua, confliva nel fosso, insomma. Cioè, io dormo ancora in casa, però tutti dormono lì, ma tutti dormono lì perché siamo più tranquilli, diciamo. No, ecco, almeno chi dorme. Folutori che non capivano niente, perché non si può mettere su una trave senza le chiavi di testa. No spoil breeze. È sabbioso, ovviamente, come questo qua, in sostanza. Io non conosco perché non ho fatto dei sondaggi, però le sabbie che sono venute indicano che al di sotto del piano di campagna ci sono dei livelli di sabbia di una certa entità che hanno subito l'equefazione. Sì, perché... Poi, tra l'altro, lì si parla anche che fosse una vecchia ruota del Reno. No, no, quello era il Reno. Il vecchio... Il Reno passava di qua e questa curva qui è stata fatta dopo. E proseguì. Eh, eh. E proseguì. E proseguì. E proseguì. E proseguì. E proseguì. E proseguì. E proseguì.